Allora, chi si sveglia fuori questa volta? Ah, tu! Ma come io? Ah, ma forse è chi dorme da questa parte del letto che si sveglia fuori. Ma dai, perché mi devi far svegliare? Ma mi saluto! Ti odio, d'ora in poi dormo io da quel lato, come sempre stato. Scusami, eh. Quel momento in cui scopri che è chi dorme da un lato che si sveglia fuori. Non me lo diceva mica, eh. Che ca... Perché ho la tua skin? Cosa? Ho la tua skin! Cosa? Ho la tua skin! Non è... no. Sì? Tu mi vedi con la mia? Sì. Io mi vedi solo con la tua. Ehi, lopo che fanatico, bentornati in questa nuova parte della Minecraft Pixelmon insieme ad Axo24! Dici, personaggio di Axo, pensi forse che Dani catturerà uno shiny oggi? Inquadralo? Inquadralo? Perché devi essere cattivo? Ti sto guardando! Dove sei... Ok. Ok, dopo questa bella cosetta simpatica per tutti, tranne che per me, fai vedere un po' i progressi del server. Allora, qui nel nostro villaggio della Pischelmon abbiamo portato avanti i lavori e ho deciso di completare completamente, anche se è una ripetizione, la prima casa. Oggi andremo infatti a finire la seconda facendovi vedere per l'appunto il procedimento che abbiamo utilizzato per la prima. Infatti, Dani è strapieno di materiali da costruzione così come lo sono io. e inoltre abbiamo deciso di piantare tutte le kick-off che avevamo, anzi, non tutte, però a buona parte qui in giro attorno alle case così da poi così da poterle raccogliere poi semplicemente e craftare le pokeball visto che ce ne serviranno ancora anche se qualcuno l'abbiamo. I miei attrezzi sono un bel po' anche materiali. Cioè, gli attrezzi sono pochi ma i materiali sono tanti e qui c'è una casa da costruire. E chi la costruirà? Esatto. Starei per dire Axop ma in realtà la devi costruire pure tu. Ecco. Volevo fregarti non ci sono riuscito. Ok. Dovremmo però stare attenti a riprodurre la perfezione e l'altra perché altrimenti poi avviene una cosa brutta e asimmetrica. Però adesso dormiamo così avremo l'occasione di mostrarvi quella che è la legge dello svegliarsi fuori. Ciao Metapod. Sì. Sì, guarda. Allora, dormire su questo letto equivale a svegliarsi fuori. Ah, coglione, darmi tu. Sì, 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 va bene, ormai. Vai. Guardami dentro. Ciao Dani, ciao. Ti odio. Allora, comincio a fare lo scheletro perché dopo aver messo lo scheletro della casa tutto diviene più semplice. Ora, mi levi per favore la terra che c'è qui di lato con la pala? Sì, abbiamo già ristabilito. Sì. Così da poter fare l'entrata. Abbiamo già ristabilito i ruoli, ecco. Vai. Oh, c'è un Venusaur. C'è un Venusaur. Al 35, vieni qua, vieni qua. Ok, me la sta dando. Ci stai combattendo? Ci stai combattendo? Sì. Cioè, io me ne vado. Io me ne vado e tu ci vai. No, 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 smettila di darmela, ha fatto Critico Lit. Mi ha ucciso anche Gengar, che bello. Stai a vedere che me l'ho battuto. L'ho dovuto battere con Pidgeot, che tristezza. Però l'ho battuto. Axo assassino. Axo assassino. Non mi avrete mai. Ecco, mi avevi promesso che in questa parte non lo facevi. Axo, torna qui. Aha. Ho detto che non sarei morto cadendo da Pidgeot, non che non sarei salito su Pidgeot. Ah, ovvio. Ho trovato delle zucche, io. Bene, sicuramente ci serviranno molto per catturare i Pokémon. Certo. La zucca ball. La zucca ball. Ecco così, a caso. Metto questa a caso. Che hai fatto? Niente. Scoprilo tu. No. Perché sei deleterio invece di essere utile? Ce l'hai da te? Sì, la Dirt, sì, sì, ce l'ho. Sono una donna. What? Non lo so. Perché hai detto una cosa del genere? Senti, mi andava di dirlo. Sono una donna. Mi andava di fare outing. Ma perché? Cosa, cosa succede? questa serie sta diventando no sense ogni parte che andiamo avanti? Mi andava di fare outing, cioè andiamoci contro. Guarda che il top del no sense è stato io che continuavo a buttarmi giù da Pidgeot. Sì, 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 lo so, l'abbiamo visto nella parte scorsa. Axel, che stai facendo? Axel, che fai lì? Ma non mi guardare! Stai facendo la cacca, che fai? Cosa fai? Ma non mi guardare che mi fai ridere! Oddio, c'è un torterra! Dove? Qua! Vicino casa? Oddio! Ma che cazzo? No, no, aspetta, lo devo scrinnare. Eh, ma c'è il male... Ecco, vabbè, tanto inutile che dico ci sono gli alberi di mezzo, tanto si sposta. Appena voglio fare la foto inizia a camminare. Per fortuna che è lento. Arriva Axel a batterlo. No, aspetta! Ah, me lo vuoi fottere? No, voglio fargli una foto. Boom, 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 bellissime, glielo fatte. Vai Pidgeot, azione! Ma perché azione? Eh, senti, è solo quella, ci accontentiamo. Va bene, dai. Sì, e Pidgeot con azione si porta via torterra e sale al livello 50 Pidgeot. Addirittura ce l'hai al 50? Vabbè, a che livello ce l'avevi prima? 49. Vabbè, grande, ottimo grinding. Ah, c'è una Pokerloot vicino a casa, andiamo a prenderla? Ah, sì, andiamo. Ah, passo, sì. ehi Dani, oi, ehi Dani, eh, guarda in alto. Lo so che sei lì, io lo so che sei lì, sei lì? sì, sì, che fai? No! Ok, vediamo, vediamo, ho detto vediamo, mi sta laggando, vediamo. L'hai presa, l'hai presa, l'hai presa, che cos'è? A me non dice ancora che l'ho presa, però. Dai! Vabbè, quando l'hai presa, dimmelo, eh? Ah, Waterstone, pietra idrica, sì, scusate, ogni tanto lagga, colpa del Lost, colpa di Axo, non colpa mia, colpa sua. Colpa mia, ma lo sai che Poliweer l'ha fatto anche una, una marca di dentiere, la Polident, non uccidermi. Axo, ho abbandonato la partita. Dovevo farlo, non mi è venuto in mente, non sono stato così brillante da farmelo venire in mente. Oddio, però era bellissima, dai, ammettilo, ammettilo. Direi di sì. Bella la visione notturna del campo di Ghicocche. E ora ci ho messo le torce anche meglio. Bene, ottimo. Sta venendo bene, sta venendo bene. Sì, sì, vai, dormo fuori. Vai, tu dormi dalla parte di fuori stavolta. Sì, dormi sepolto in un campo di Ghicocche, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa inveglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Ma perché canti questa canzone? Dobbiamo andare a dormire, coglione. Riesci a farmi un server sul mio? Che ti serve? Perché così posso giocare insieme a Paride. Non potete giocare in LAN se dovete giocare qua? Lo so, ma però siamo distanti, perché se no ogni volta lo devo invitare. Vediamo se si potrebbe fare. Lui è SP, però. Ah. digli rifottersi e di comprarlo. E io gli ho detto, ma però ho detto che sui genitori non gli fanno comprare niente. Su che sia, perché dicono che non si, non si fidano, dicono che non è sicuro. Ah, ok. Ma come non è sicuro? Ma Minecraft? Eh, vabbè, poi vedremo che è ok. Aspetta, aspetta, ho trovato uno strumento invisibile, fa tipo le cose luccicose. Sì, 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 esatto, è uno strumento, sì. Ed è MT-29 psichico! Oh. Beh, beh. Ti prego, ti vendo il culo se me la dai. Attenzione, ho axo nelle mie mani, ho axo nelle mie mani, ho trovato psichico. E ora lui è tutto per me. Guarda, te la do. In cambio tu mi devi portare un dinosauro, un unicorno, la testa di Anubi. Charizard va bene. No, lo sto catturando io, sono venuto all'Extreme Hills apposta. Ah, ok. A parte che, vabbè, l'Extreme Hills si trovano tutti i Pokémon di tipo fuoco, tipo gli starterini, no? Quindi qualsiasi ne trovo. Sì, sì, esatto. Charizard lo volevo perché è perché mi piace, sì, esatto, e voi lo sapete anche che mi piace. Se pensate che Charizard non mi piace vuol dire che non capite i troll che vi faccio e seriamente curatevi perché lo dico per trollare tutti che mi fa schifo, in realtà mi piace un botto. A chi è che non piace Charizard? Su via. Però c'è Chimchar, ma Charizard lo vorrei prima di tutto perché mi piace, due perché vola. Se non prendo Charizard poi mi tocca prendere un Pokémon che vola, invece con lui ho fatto tutto. Esatto, non come Aschio che ha uno stupido Pidgeot. Signore e signore, abbiamo trovato il secondo Shiny della serie. Eccolo qui, poteva andare un po' meglio, però meglio di niente. è un Ledian che l'ha trovato Axo però adesso la gloria è mia perché lo prendo io. Vieni qua però. Vieni qui, sei fermo? Fermo! Ma siccome Dani non riusciva a catturarlo ci ha pensato il buon Aschio. Eccolo qui, te lo regalo se lo vuoi. Lo vuoi? No, non lo vuoi. Tanto io lo lascerei nel box io. È uno schifo, cioè fa schifo, è inutile. Ma è uno Shiny. Sì, ma non si capisce neanche che è Shiny. Ah, tira le stelline dai. Poi scusa, che me ne faccio di quello quando ho questo? Ovvio! Guarda, guarda come si fa lo sborone con tutti gli Shiny catturati da lui. Solo perché io non riesco a catturarli poi. Cosa si prova a essere mangiati da un banano? Cosa si prova a essere mangiati da un banano? Da un banano? Essere mangiati da un banano cosa si prova? È una sensazione orribile perché ti senti coperto nelle sue viscere bananose. E senti il potassio che ti entra nelle vene, talmente tanto potassio che muori diventi... Ma che cazzo? Bananoso. Allora, io qui avevo quasi finito il tetto, ergo quasi finito la casa. Indovinate chi ha lavorato per l'ennesima volta? Tu. Eh, io c'ho il lag di quando mi teletrasporto, quindi scusate se non vi riesco a far vedere bene le cose. Ok. Comunque sì, ora abbiamo due case pressoché identiche, collegate anche con vialetto, con scala. Boh, vediamo, io direi di fare il campo di battaglia prossimamente. Il campo di battaglia, vero? Eh, Axo, Axo, guardami, guardami. Guarda cosa ho in mano. Figlio di puttana. Tu quale vuoi di casa? Vuoi uguale, no? Sì, però dimmi quale prediligi in base alla posizione. Vediamo un po', lo dirò dal centro Pokémon. Mi garba di più. Allora, di qua c'è il vuoto, di là c'è la foresta. Io mi prendo quella a destra. E allora mi piglio quella a sinistra. Va bene. Ma le lasciamo aperte, sì? Sì. Cioè, a meno che tu non mi vieni a rubare in casa. No, non ti vengo a rubare in casa. Allora, vediamo un po' che cosa ha Axo. Io però potrei venire a rubare in casa tua. Ehi, stai molto attento, eh. Ti consiglio di tenerti psichico addosso. Che stronzone. Ok, siamo arrivati alla fine anche di questa parte. Io vi ringrazio per averla seguita. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi ai nostri canali se non vi siete ancora iscritti soprattutto al mio, non a quello di Axo perché, boh, così mi va. Lars troverà mai uno shiny? Grazie, grazie per aver infiorito anche alla fine della parte. Ciao. Ciao.